E anche per questo siamo sollecitando l'Unione Europea, è stata fatta qualche giorno fa la riunione dei ministri del turismo, io ho incontrato diversi miei colleghi, stamattina il ministro croato, un videocall ovviamente, domani parlerò con il commissario europeo che è la delega del turismo, perché noi vogliamo che ci siano delle regole europee che di prescrizioni di sicurezza sanitaria comuni che consentano il libero spostamento tra Paesi europei, evitando il rischio di accordi bilaterali tra un Paese e l'altro, che crederebbero a condizioni di slealtà all'interno dell'Unione Europea, ma che ci siano delle regole comuni perché consentano che se a Jesolo ci va un turista della Baviera o un turista della Lombardia, entrambi hanno osservato lo stesso protocollo di sicurezza e quindi possono spostarsi liberamente all'interno dell'Unione Europea. È un'azione importante, tutto il Governo è impegnato su questo e credo che sia una delle prove assolutamente di gestione a livello europeo di un'epidemia che come abbiamo visto conosce molto poco le frontiere.